Guarda chi c'è, Willi, come stai? Tutto bene? Sì, bentornato. Ehi, che taglio. Ti candidi alle politiche? No, mi sono solo rinnovato. Si cambia guadagnando cifre a 9-0. E quello chi è? Deve essere Parkman, il nuovo giocatore. Che c'è che... Vieni, Ricky. Ehi, ciao, Parkman. Volevo darti il benvenuto nella nostra squadra. Sono felice che ti abbiano ingaggiato. Sei un buon giocatore. Non dire fesserie. Tu non mi piaci e io non piaccio a te. E non te la prendere quando ti sostituirò per le tue ginocchia. Lo prendiamo a schiaffi? Se lo sogna di sostituirmi. Non vaporizzare vicino a una fiamma. Recipiente sotto pressione. Agitare prima dell'uso. Premere con l'indice... Oh! 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 Oh, Gesù! Mi dispiace, signore... Signor Serrano. Io... Solamente... Che tu sia perdonato. Vi amo tutti! Jay, Lou, miei vecchi grandi amici. Come state? Noi bene, e tu? Penone. Finalmente Gaio è libero. Che cosa ha detto un gay libero? Gaio! Felice perché libero da rabbia che condizionava Serrano. Amici. Tutto merito di meditazione. Cinque mesi... Con maestro Ama Matsusui. Niente più voodoo. Ora solo amore infinito. L'uno si ricollega al tutto. Niente più voodoo.